60 a 320, insomma a secondo delle cose, cioè non è vero, non è vero, e poi c'è il discorso di Epicuro, cioè una persona, scusate la banalità, voglio dire, è morto, vuol dire che non vive, se non vive non si può chiedere un risarcimento per un qualcosa che non vive, cioè nel senso prima c'è la vita e poi c'è la morte, una volta che c'è la morte non c'è la vita, quindi non c'è un soggetto giuridico cui imputare la legittimazione per chiedere un risarcimento che possa poi trasmettere il diritto stesso agli redditi, è una sentenza che ha fatto molto discutere, ha fatto molto discutere, mi pregherei di guardare soprattutto per vedere il clima che c'è in Italia le note che sono state pubblicate sulla principale rivista giuridica italiana, quello che anch'essa ormai viene pubblicata online, la rivista più famosa nel diritto italiano è il Foro Italiano, come sapete, bene, sul Foro Italiano al quale io tanti anni fa collaboravo più spesso, naturalmente i tempi, ma sono uscite sentenze, sono uscite commenti, sono uscite commenti durissimi su questa sentenza, ma non tanto perché si voleva fare un discorso antiassicurativo, no? Apro parentesi, le compagnie di assicurazione dopo la sentenza Scarano erano molto preoccupate, erano molto preoccupate, erano lì a dire se le sezioni unite riconoscessero come voce autonoma, iure ereditario, no? Un risarcimento per il danno subito dalla persona morta istantaneamente al momento della lesione, oppure con quel brevissimo anaclessida di tempo, cosa fanno quei signori che si chiamano attuari delle compagnie di assicurazioni? Rilevano che c'è un fenomeno statistico che sale di possibili richieste risarcitorie, perché chiaramente i morti ce ne sono tanti, e cosa comporta? Comporta un aumento dei brevi. Questo è un po' un discorso che riprenderò alla fine, però l'anticipo, non so se forse l'ho già detto a Modena lo scorso anno e l'ha detto anche Alberto prima. Insomma, colleghi emigliani, è inimmaginabile non tenere nel giusto raccordo il momento della responsabilità civile col momento dell'assicurazione. La responsabilità civile in Italia, ma non in Italia, in tutto il mondo, è una responsabilità civile sempre, 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 sempre più assicurata. Sia quando c'è un obbligo, e allora voglio dire, no, c'è un obbligo, RC auto, RC professionale, RC medica ora, ma Balduzzi pone l'obbligo solo a carico della struttura e non delle compagnie, le quali fanno cipirimeria. Tu mi assicurati a me, io non ti voglio. Per RC auto ci sono, sono tenuto, per RC sanitaria no, è un obbligo unilaterale, non bilaterale. Poi riprendo questo discorso. Quindi sentenza tanatologica, sentenza danno tanatologico, una sentenza che effettivamente, no, dice, ma come? Se muore uno, sì, hanno una legittimazione, io repropo gli eredi, no? C'è un vuoto di tutela, direi proprio di no. Ed è una sentenza importante, perché in un saggetto che ho scritto proprio qualche mese fa, l'ho fatto leggere Alberto, chiamavo la responsabilità civile con un termine cui nessuno, no? Cercavo un termine mio, che nessuno, perché molti hanno parlato di trionfo della responsabilità civile, di straipamento della responsabilità civile, dell'alluvione della responsabilità civile. Io ho inventato questo termine molto importante, anche non così chiaro, l'imperialismo della responsabilità civile. Cioè una responsabilità civile che, no, sgomina e fa fuori tutto macchiavellicamente pur di raggiungere un effetto che è quello del risarcimento del danno. Bene, la sentenza del danno tanatologico è e va un pochino in contraddirezione rispetto a quanto dico in questo articolo, perché la Corte di Cassazione si rende conto a livello di sistema che ammettere il danno tanatologico significherebbe allargare sempre di più il perimetro del danno risarcibile con tutte quelle conseguenze che ci sono in termini di costi assicurativi. Il Foro Italiano dedica spazio, ci sono degli articoli di Pardolesi, noto professore alla LUIS che dietro indicazione di Guglielmo avevo sentito per sostituire l'insostituibile professor Franzoni, ma anche lui c'era una lezione di dottorato oggi, se no sarebbe venuto qua. Pardolesi si scatena contro la sentenza delle sezioni unite, ma guardate che in tutti i paesi del mondo non è risarcibile il danno tanatologico, solo in un unico paese, il Portogallo. No? È importante il Portogallo, Coimbra, Lisbona, eccetera. Però che il modello portoghese sia il modello da seguire? Ho forti dubbi. Seconda sentenza, seconda sentenza sulla quale ha già parlato molto bene Mario Leoni. È una sentenza adotta, è una sentenza adotta, una sentenza adotta per un docente che insegna all'università cattolica, anche piena di implicazioni culturali, religiose, filosofiche. È una sentenza che vi raccomanderei di leggere perché gioca tutto su e fa riferimento ad una citazione di Dante. La citazione di Dante dice Spirito, il giudice relatore, quando dice sul secondo quesito sottoposto all'esame delle sezioni unite, il bambino Dan può chiedere, può avere, si sente? Può avere una legittimazione autonoma per il risarcimento del danno? Svolge tutto un discorso, poi Spirito, la Corte di Cassazione dice la contraddizione non consente. Siamo nell'ottava bolgia dantesca. L'ottava bolgia, io queste cose non le ricordavo, però sono andato a riprendere la Divina Commedia. Nell'ottava bolgia, caro Guglielmo, sai chi c'è? Chi fa abuso dell'intelligenza contro le norme morali e religiose e qui se fossi un giudice napoletano, ospite della Fondazione Forense di Modena il 17 aprile, me la sarei presa forse personally, abuso dell'intelligenza. No, si vogliono bene per quello che so, sia Spirito, sia Travaglino, ma il riferimento è proprio a Travaglino. La sentenza è molto importante, viene dalla sentenza del luglio 2012, citata da Mario Leoni, fatta da Travaglino. Io fu invitato a un convegno di ginecologia, tutti i grandi convegni, mamma mia, eccetera, e invitarono Travaglino, per il quale gli organizzatori mi dissero poi avevano fatto un'assicurazione contro rischi e infortuni e il clima era terribile. Mi sono trovato io, che proprio non mi piaceva quella sentenza, ma non mi piaceva per tutta una serie di profili che verrò a dirvi, a fare il pompiere del pubblico. Il caso deciso da Travaglino è nel 2012, riguarda una bambina nata da un Marta, la madre aveva avuto già due figli, era andata dal ginecologo e il ginecologo aveva cannato. La colpa del ginecologo era evidentissima, perché la signora aveva detto al ginecologo, guardi, la situazione familiare, economica che abbiamo, mio marito e due figli, non possiamo permetterci, non era primipera, aveva già avuto due figli, aveva 29 anni, quindi un'età giovanile, diciamo nella media, non ci possiamo permettere di avere un bambino o una bambina che abbia malformazione, no? Per cui, no? Il medico aveva visto due figli, ottima salute, gli aveva suggerito, come forse avete letto la sentenza quattro anni fa, un esame del piffero, il tri-test, che è un prelievo di una macchiolina di sangue, no? Assolutamente non invasivo, ma assolutamente fallibile. I test scientifici dimostrano che la fallibilità del tri-test è nell'ordine del 40-45%. I test più invasivi, che sono ammiocentesi, no? Molto invasivi, perché ci possono essere dei rischi pericolosissimi, hanno una fallibilità del 3-4%. Telefono per cortesia, non mi fate in bestialire. Tribunale di primo o secondo grado, siamo nel Veneto bianco, riconosce il risarcimento alla madre. La madre aveva detto al medico, se, in sede di accertamento, se mi dite che è down, io abortisco. E qui c'è un grosso problema di onere della prova, sul quale ha già parlato, già parlato Leone, no? Ci sono le due opzioni. Una, una, una light, la chiamo io. Caspita ragazzi, switch off, please. Una light e una heart, no? Cioè tu, madre, devi provare, devi provare veramente la legge sull'aborto, no? Devi provare il danno che nel primo trimestre di gravidanza è un serio pericolo alla salute psico-fisica, diventa grave pericolo dopo il secondo trimestre. No, dice, ma se una, voglio dire, ha già detto al momento dell'amiocentesi o del tritesto, sbagliato, no? Che avrebbe fatto sicuramente l'aborto, that's all, basta questo, no? È sufficiente questo, quindi una versione un pochino smussata, no? Di onere della prova. Bene, era stato riconosciuto il risarcimento alla madre, confermando la giurisprudenza. Era stato riconosciuto il risarcimento anche al padre, in virtù di quella teorica sulla quale ha sollevato alcune obiezioni Mario Leone, cioè il contratto protettivo con Terzi, il contratto col medico l'aveva fatto la madre, chiaramente, ma questo contratto che pone tutta una serie di obbligazioni, bla 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 bla, aveva avuto effetti protettivi anche nei confronti di chi il padre non ha, come voi sapete, alcuna autonomia abortiva, non può decidere, al limite può essere sentito in alcuni casi. Va in Cassazione sul punto, se sia corretto e conforme a diritto, il fatto della legittimazione della bambina a chiedere un risarcimento. E Tavallino fa questa sentenza di 105 pagine in cui si cimenta con temi importantissimi, soggettività del concepito o non soggettività. Attenzione, siamo, come ha detto Mario Leone, in un campo in cui l'errore informativo è chiaro, ma non è che il bambino è nato down per errore del medico. Il bambino era down, era già per natura. Quindi, voglio dire, non ha influito, e c'è un problema di causalità, no? Sulla condizione. Tavallino fa questa sentenza in cui dice, non è problema di soggettività giuridica del concepito, e cita, e cita, e cita, e cita, è il problema che è oggetto di tutela. Da soggetto diventa oggetto, no? Oggetto. E quindi ha diritto al risarcimento del danno. Non solo. Ma il risarcimento del danno lo hanno anche i fratellini, le sorelline di Marta. Perché hanno avuto una vita... non hanno avuto tutte le attenzioni. In quegli anni tutta l'attenzione, la concentrazione, la quantità di affetto era, no? Nei confronti della bambina Davide, e loro hanno sofferto. Quindi, cinque risarcimenti. Cinque risarcimenti. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. La contraddizione, no? Non consente, no? La bolgia, l'ottava bolgia dantesca. E tutto viene giocato sul spirito, sul concetto di danno conseguenza. Si segue danno conseguenza. Che dice, cito, si deve partire, sottolinea il collegio, è una nota che ho scritto, dal concetto di danno conseguenza, riassumibile con espressione empirica, nell'avere di meno a seguito dell'illecito. Cioè ci può essere danno, solo se, come conseguenza dell'illecito commesso dal medico, dalla struttura, si abbia di meno. E come ha detto Leoni, beh, non si può. Contraddizione non consente. Perché la vita non può essere paragonata alla non vita. Non c'è una concezione, no? Di meno tra non vita e vita, no? E' una sentenza che nel negare il diritto a non nascere se non sani, fa riferimento ancora una volta alla grande attenzione che tutti noi, ma non gli avvocati, gli operatori, ma la comunità sociale deve avere nell'individuare il concetto di ingiustizia del danno, no? Cosa che si insegna agli studenti di prim'anno, che io insegno ai miei studenti di diritto privato, qualunque fatto doloroso, danno ingiusto. Cos'è ingiusto? Il giusto è contraius, no? E loius che cos'è? Un tempo era diritto soggettivo assoluto, poi diritto soggettivo relativo, col caso Meroni, poi interesse legittimo, ma ci deve essere sempre un contraius. E qual è questo? Ma un contraius che deve essere sentito, apprezzato dalla comunità sociale, riteniamo che sia apprezzato, condiviso, il diritto a non nascere se non sani? C'è qualcuno che dice che esiste, come parte, no? Di un più generale diritto alla felicità, forse di esperienza americana, però Mario Leone ha ricordato prima, io lo riprendo volentieri, l'aborto eugenetico non esiste, no? Dare un risarcimento del danno, pensaci un attimo Alberto, dare un risarcimento del danno al bambino da un, quando, ripeto, sarebbe nato così perché non c'è una fault medicale, non c'è un med mal, medical malpractice, non c'è, era così, era scritto nella natura purtroppo, significa trasformare il diritto della responsabilità civile che vuole trasferire ricchezza tra danneggiante e danneggiato, ma solo a condizione che il trasferimento della ricchezza avvenga nel rispetto, nel rispetto di quelli che sono i criteri normativi. Ci vuole un giustizia del danno e ci vuole un nesso di casualità, si trasforma la responsabilità civile e forti sono state le critiche, sapete di chi nei confronti di Travaglino, che lo vedo ancora qui, no? Lo scorso anno, delle associazioni di disabili, hanno detto ma tu Travaglino alla bambina Down hai dato un risarcimento e a tutti noi che non abbiamo fatto causa, che abbiamo accettato questo che è stato qualcosa sul quale non potevamo incidere, perché sulle decisioni di madre natura non si può incidere fino a un certo punto, non abbiamo avuto nulla, si trasforma la responsabilità civile in un sistema di sicurezza sociale, no? Si vuole dare un risarcimento. Perché cinque risarcimento? Travaglino dice, in quel convegno a Napoli di ginecologi, dice ma se la madre a cui ho dato risarcimento per la lesione del suo danno impazza oppure perde tutto perché investe in Monte dei Paschi, come ho fatto io un anno fa, eccetera, dice e non rimane niente, no? Quindi ci deve essere un risarcimento anche per il bambino Down perché così è tutelato, ma non lo so, non lo so, non lo so davvero. Terza sentenza, come siamo? Posso andare avanti, vero? Sì, sì. La sentenza delle sezioni unite è quella annunciata. Però ho voluto provocarvi all'inizio perché so che è molto frequente, è molto frequente questo caso nella polizza infortuni, frequentissimo nei casi di pensione di diversabilità, no? Sembrava che la tesi che per la polizza infortuni non mortali, no? Si dicesse tutta sommato si applica l'assicurazione sulla vita, dove non vige il principio indennitario. Arriva dopo quattro anni di massimario della Corte di Cassazione e al massimario della Corte di Cassazione vanno, lo sapete, vanno i super giudici, i giudici che sono selezionati, che sono apprezzati per le loro capacità sepienziali, va Marco Rossetti. Dopo quattro anni di massimario, Marco, che avevamo contattato ma aveva udienza oggi alla terza sezione, quindi non è potuto venire, però invitatelo perché è veramente professore giudice, cioè nel senso è... fa queste due sentenze nel giugno in cui dice, signori, il danno è un danno unico, no? Io devo risarcire il danno, il danno è se la polizza infortuni, se il risarcimento del danno che il danneggiato riesce a percepire dal terzo danneggiante, superano la misura del danno cento, scusate la semplicità didattica espositiva, e così non va, si va contro, si va contro, compensazio luoghi con danni, sì, sono due fonti diverse, sì, ma il danno è unico, il risarcimento deve essere integrale, non deve essere over integrale, ricordate le cose che ho detto prima sulla forte pressione che esiste nella comunità sociale italiana di superare i limiti del risarcimento, no? Ora pensate alla situazione della pensione di riversabilità, no? Viene ucciso il coniuge, voglio dire, si prende un risarcimento di cento, la morte di un coniuge, no? Soprattutto a una certa età è ancora più forte di quella che può accadere una diversità, e io devo rinunciare a una parte della riversabilità o a una parte del risarcimento perché il danno è quello, no? Esiste una compensazio luoghi con danno? In questo caso delle pensioni di riversabilità non sono due titoli confligenti, contratto e fatto illecito, sono due titoli che sono fatto illecito e legge, è la legge che prevede che ci sia la pensione di riversabilità. Se la legge l'ha fatto, l'ha fatto per finalità solidaristiche, l'ha fatto per finalità di ristoro, di aiuto? Sì, dice Rossetti, ma benissimo, la legge l'ha fatto per finalità solidaristiche, ma appunto nei limiti del danno, se il danno è il cento, cento deve essere, e tutto ciò che succede, supera, che cede cento, deve essere detratto, deve essere scorporato, no? Vedete, è un'altra sentenza questa, attesissima, perché sta ancora una volta a testimoniare una difficoltà della risposta di dire qual è il giusto risarcimento. risarcimento. È un giusto risarcimento che incorpora le due voci aquigliane e assicurative e o legislative, o è un qualcosa che deve invece necessariamente, draconianicamente, forse ingiustamente stare nei limiti del danno? Sceglietela, sceglietela voi, ma la situazione è molto, molto, molto non facile da rispondere. Terza parte della mia responsabilità medica. Mamma mia, qui devo fermarmi. Mi date ancora qualche minuto? A un certo punto... Sì, va bene, ma... Vabbè, su, cerchiamo di... responsabilità medica, qui farei tutta la storia. Ricordo solo un paragone storico. Nel 1990, voi cosa facevate nel 1990? Non lo so, 26 anni fa fu emanata una proposta di direttiva, fu emanata una proposta di direttiva dal Consiglio d'Europa volta al ravvicinamento delle disposizioni europee in materia di responsabilità del prestatore di servizi intellettuale. E questa responsabilità proposta di direttiva era così fatta. Il prestatore di servizi intellettuali è responsabile, ok? È responsabile, non oggettivamente, è responsabile, salvo... 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 salvo che non provi di aver rispettato le regole dell'arte. Era un modello di responsabilità, correggimi Alberto, non oggettivo, ma paraoggettivo, che faceva e completava il quadro di regolamentazione europea che pochi anni prima, in materia di prodotti, difetti da prodotto, aveva introdotto un regime di responsabilità oggettiva. Il produttore è responsabile dei danni cagionati da difetto del prodotto. e bisogna provare il difetto. Il prestatore è responsabile nei confronti del cliente, paziente, eccetera, se non prova. No? Di avere un'inversione dell'onere della prova, chiamiamolo così. Una responsabilità torrente, il manuale di diritto privato la chiamerebbe responsabilità aggravata. Bene, sono scese in campo. Dopo questa proposta di direttiva, tutte le principali associazioni dei prestatori intellettuali europei, dicendo, ehi, siete pazzi? Se passa questa direttiva, ci sarà un over-deterrence all'americana. Cioè, noi medici smettiamo, perché voglio dire, chi opera più? No? Ginecologi, tutti i cesari, in fila. Non possiamo rischiare. Insomma, le lobby, nel senso legale, delle associazioni dei proficisti intellettuali, vinsero. La proposta di direttiva fu ritirata, perché troppo ardita, troppo severa nei confronti dei prestatori di servizi intellettuali. In primis il medico. Ho ricordato questo perché molti si scordano da dove siamo partiti. all'1990, cioè 25 anni fa, no? Sì, Jurassic Park, ma insomma, dal 1999, in Italia. Ora non lo sto qui a ripercorrere, dove avrei bisogno di un'ora. Ma guardate che cosa è successo. Contatto sociale. Mi seguite? Vi ricordate? Vicinanza della prova. Tutto noto? Nesso di casualità. Tutto noto? Più probabile che non. Perdita di chance. Prescrizione. La decorrenza della prescrizione. Alberto, io insegno ai miei studenti che la prescrizione, le regole sulla prescrizione sono regole di diritto pubblico, inderogabili. Patti contrari tra le parti non hanno effetto, perché è l'ordinamento che dice, no? Bene, come è stata interpretata la prescrizione? Da quando decorre la prescrizione? Da quando il fatto è stato posto in essere, dice, in materia di illecito? E quando è stato posto in essere l'intervento operatorio? Eh, no, mica sapevo io. Mi hanno operato per non avere figli, no? Per essere sterile, no? Io per 7-8 anni ho fatto il monaco. Poi mi sono messo, ho trovato la compagna nella mia vita, e ho detto, andiamo, tranquilli, senza cabrio, senza nulla, no? Eccetera. Sono venuti fuori una moltitudine, che anche è giusto, no? Che anche è giusto perché produciamo poco, concepiamo poco, bisognerebbe allenarsi, produrre, produrre di più, perché siamo sottopopolati in Italia. Insomma, prescrizione che decorre il sangue infetto. Da quando decorre la prescrizione? Da quando il soggetto danneggiato ha, non la conoscibilità oggettiva, oggettiva, cioè in base a parametri, informazioni della lettura scientifica, ma in base alla conoscibilità soggettiva. Perché non solo deve essere scritto, ma lui potrebbe non saperlo. Quando lo sa, quindi, se ne dia sostanzialmente. La prescrizione è un elastico temporale incredibile. Insomma, signore e signori, la responsabilità medica è diventata una responsabilità, qui la dico grossa, ci sarà un bel convegno. C'è un po' di movimenti. Qualcuno sta pensando, se forse non lo so. C'è un belissimo convegno a maggio a Roma dell'Associazione Melchiorre e Gioia, l'Associazione Medico-Legale, una delle associazioni più importanti in medicina legale. Ci sarà una lezione magistralis, addirittura, di Marco Rossetti, che sulla responsabilità medica. Sulla responsabilità medica, io ci sarò, partecipo a un tavolo, il 20 maggio, venerdì 20 maggio. Cosa è che volevo dire? È diventata una responsabilità sempre più oggettiva. Sempre più oggettiva. La responsabilità oggettiva, però, la responsabilità oggettiva ha bisogno di che cosa? Dell'assicurazione. Io svolgo un'attività che l'ordinamento mi reputa fonte di una responsabilità oggettiva, cioè che prescinde dalla colpa. No? Bene, io mi assicuro. No? Funziona così. Funziona perché io sono un imprenditore, io sono una struttura sanitaria e mi assicuro. Mi assicuro. Gli economisti direbbero io voglio internalizzare i miei rischi. Posso essere responsabile nei confronti di terze persone di 100? Ho fatto un'assicurazione? No? Quell'assicurazione mi copre 100, non determino la paralisi. Bene, la responsabilità professionale medica, non ha più un'assicurazione. Perché? Per ragioni elementari. Perché, dicono gli assicuratori, c'è un rapporto loss premium completamente sballato. E cioè, dato 100 i premium, cioè i premi assicurativi che si paga, il loss è 180, 190. siccome non c'è un obbligo assicurativo e guada, legislatore, no, tu non me lo puoi porre un obbligo così, perché io scappo dal mercato. La stessa situazione che si è verificata in America, negli Stati Uniti in America nel 1975-80-85, quando io ho passato un lungo periodo in Connecticut. No? i premi assicurativi sono dati alle stelle. Nessuno più assicurava. A differenza dell'RC Auto, l'ho già detto prima, dove l'obbligo legislativo è bilaterale, qui l'obbligo legislativo è introdotto dal mio amico Renato Balduzzi, mio collega, la cattolica, anche se ha insegnato dieci giorni, poi è stato chiamato da Monti, ministro della Sanità, è unilaterale. E le assicurazioni sono in crisi. voi avete notizia di una compagnia di assicurazione, se volete ve la do io, sono dati pubblici, di una compagnia di assicurazione che l'ha fatta da gigante in Piemonte, Lombardia, Licuria e anche qualcosa preso in Emilia. È una compagnia che quando le aziende sanitarie fanno per un'asta per dire mi devo assicurare, vediamo Generali, Bregoli, Ponzanelli, quanto mi offrono, si presentano le offerte, questa compagnia presentava condizioni miracolose, bassissime, e l'azienda sanitaria in un'ottica di sostenibilità e di controllo delle spese, ah, I love you, si chiamava il faro, lighthouse, lighthouse, bene, il faro faceva dumping esasperato, ma prima che ci si rendesse conto che del mercato sanitario ha preso polizze in tutto il nord ovest italiano. Il faro è saltato, il faro è saltato, è andato in LCA, è stata dichiarata l'insolvenza, il commissario liquidatore, un avvocato di Torino, sta presentando un stato passivo della compagnia del faro di, non lo dico per non spaventarmi, ma le aziende sanitarie sono senza garanzia assicurativa. Perché? Eh, signori miei, perché per la RC sanitaria non è previsto un fondo di garanzia come è previsto per la RC auto, per la caccia e per altre cose, l'articolo 19 della legge 24 dicembre 69 numero 190 non c'è, fondo di garanzia da chi è pagato poi? da noi, al momento del premio, quando noi paghiamo a dicembre, gennaio, il premio 100, premio assicurativo, guardate le sottovoci, c'è una piccola voce che sono, perché le LCA ora sono molto di meno di 30 anni fa, mai, no? C'era il grosso incubo, c'era il grosso incubo per quattro anni fa che andasse in liquidazione coatta la terza compagnia italiana, no? Un certo imprenditore siciliano, non dico nomi, no? ma sapete il motto degli economisti too big to fail, no? Non poteva fallire, non poteva fallire fondi aria Milano, sai, era troppo grossa, ma era in condizioni terribili, è stato un salvataggio di sistema con l'Unipoli di Bologna, con tutto il sistema, no? quindi responsabilità civile oggettiva vuole assicurazione ma l'assicurazione ha dei costi incredibili. Arriva Balduzzi, arriva Balduzzi nel 2012, decreto legge, eccetera, e fa qualche cosina, fa qualche cosina, e cioè il medico, no? Il medico non viene condannato penalmente per colpa allieve se segue i protocolli, le linee guide, poi introduce il 138 e il 139 previsto nel codice dell'assicurazione per le RC sanitarie, però il 138 non è stato ancora attuato, però io l'ho detto Balduzzi, ma che razionalità ha il 138 e il 139 in RC sanitaria? RC auto ha una limitazione, ha una sua razionalità e io l'ho difesa e ho vinto alla Corte Costituzionale così, perché c'è un'assicurazione, c'è un obbligo bilaterale, qui e l'obbligo è unilaterale, e dice Giulio bisognava controllare i risarcimenti e i risarcimenti soprattutto fanno paura ai medici soprattutto dal 10% in su non tanto dall'1 al 9%, sì, non fa mai bene pagare i risarcimenti ma i risarcimenti di quelli di cui si ha paura sono quelli per le lesioni non di l'identità, quelli che dal 10% e ancora il 138 dopo 11 anni, Alberto, 11 anni non è stato non è stato attuato. Poi c'è l'articolo 3 della legge Balduzzi ne abbiamo già parlato forse lo scorso anno la responsabilità extracontrattuale o contrattuale del medico esercente della professione sanitaria dice nei casi di assoluzione penale per colpa lieve perché il medico ha rispettato le linee guida rimane fermo l'obbligo di cui l'articolo 2043 ve lo ricordate quest'articolo che è ancora norma del codice tutti hanno detto extracontrattuale si torna all'extracontrattuale no mai l'attuale primo presidente della corte di Cassazione fino a qualche mese fa è presidente della corte d'appello di Milano in un convegno in Aulamagna a Milano nel dicembre 2014 di fronte a una mia possibile ricostruzione dell'ipotesi del 2043 disse non disse questo ma in sostanza fu molto borrelliano resistere 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 come se la difesa della contrattualità della responsabilità dell'esercente della responsabilità medica fosse la panacea di tutti i problemi situazione difficilissima e medicina difensiva in Italia non si parla alto che di medicina difensiva medicina difensiva che è attiva e passiva no sono due tipi che costano si stima sui 12 miliardi di euro l'anno e cioè troppe accertamenti troppe accertamenti troppe accertamenti perché il medico prima di prendere la decisione sottopone a 50.000 e poi paralisi il medico i settori voi sapete che i settori a rischio più a rischio sono il settore ginecologico ortopedico no quindi prima di fare operazioni eccetera no si cerca di fare l'operazione meno fonte di rischio viene fuori questa dove l'ho messa ma l'avete sicuramente vista la insomma è già stata approvata la camera è nata al senato cosa contiene questa questa eccola qua questa questa bozza di che credo possa essere convertita approvata anche dal senato prima dell'estate responsabilità contrattuale dell'azienda sanitaria e responsabilità extra contrattuale alla faccia del presidente canzio al quale c'è un grande senso di rispetto e di grande stima responsabilità extra contrattuale responsabilità contrattuale del medico obbligo di assicurazione ma ancora una volta un obbligo di assicurazione unilaterale con tutta una serie di specificazioni in cui bisogna con un decreto successivo comma 6 dell'articolo 10 sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti di professione sanitaria per cui non si capisce bene una lunghissima fase di normazione secondaria azione di rivalsa nei confronti del medico che abbia sbagliato solo nei casi di dolo o colpa grave fondo di garanzia fondo di garanzia che opera pagato da noi evidentemente che opera quando il danno abbia superato il massimale previsto dalla polizza e quando caso faro insegna l'impresa di assicurazione che abbia gestito sia andato in LCA una legge qualcuno ha detto Balduzzi è incompleto è vero non mi pare che questa legge sia ancora incompleta però introduce introduce delle variazioni importanti e soprattutto e soprattutto si rende conto che bisogna introdurre non tanto il risarcimento alla fine no? prevedere il risarcimento alla fine bisogna prevenire e prevenire si fa come fanno alcune regioni soprattutto la regione toscana la regione emilia con dei sistemi sofisticati di risk management cercando cioè di vedere di prevenire all'interno di una singola struttura sanitaria il medico che sbaglia la dico grossa è quasi sempre lo stesso medico allora voglio dire se sbaglia una volta due volte dai cerchiamo di vedere di vedere di vedere la situazione ma voglio dire c'è ancora tanto da dire ma questa legge visto che Massimo Franzoni l'ha voluto nel bollettino consenso informato è una mina vagante è una mina vagante io ho tutto il rispetto per il consenso informato quando è che è il consenso informato? quando è che è il consenso informato? vi porto perché devo portare delle sentenze no? una sentenza del 12 giugno 2015 numero 12.205 che sarà pubblicata sulla mia rivista è un caso secondo me di tutta la giurisprudenza in materia di consenso informato in materia di consenso informato la sentenza più chiara donna viene operata non ho sentito io ho sentito ciste ovarica ciste ovarica ottiene il consenso attenzione mi sono andato a vedere ottiene il consenso il medico dicendo c'è la ciste ovarica questa è la situazione ci dà il consenso sì e ci dà anche il consenso attenzione dicendo è anche a fare Alberto quando si sta facendo l'intervento è una formula un po' generica me ne rendo conto tutto quello che possa essere ritenuto giusto opportuno secondo ipocrate eccetera eccetera per la malattia di cui afflitta la signora aprono e c'è una situazione incredibile altro che ciste ovarica c'è un tumore no? che rende necessaria sono cose che una isteroctomia una anesotomia una omo intercomia una appendicectomia sono una situazione devastante tumore che era molto presente e viene stirpato viene curato si chiude la signora sana e salva gli dicono poi signora abbiamo aperto scusate il mio linguaggio poco medico abbiamo aperto non c'è una ciste ovarica c'è una situazione incredibile e abbiamo fatto questo e questo perché la signora fa causa cioè tu non mi hai informato il consenso è un diritto all'autodeterminazione io te lo devo dare solo io il consenso perché tu faccia sul mio corpo degli interventi sì ma io ti ho garantito cosa dovevo fare altrimenti scusatemi seguitemi chiudere svegliarti cara no 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 non ridiamo cioè può essere oggetto ma è una cosa seria ti ricomponi ti faccio vedere tutta la situazione no e intanto voglio dire chiudere aprire e chiudere non è come no bere una coca cola no eccetera eccetera e guarda c'è questa situazione qui bisogna togliere A B C D perché sennò la situazione tu in sei mesi muori no sì ma ti avrei dato il consenso io dopo primo grado e secondo grado nonostante la consulenza tecnica esperita in primo grado abbia no ritenuto che nessuna colpa tra virgolette medica sia stata commessa dal medico il medico è stato bravissimo perché lui ha aperto c'è una situazione incredibile ha fatto quello che secondo Ippocrate andava fatto no viene assolto il medico in primo e secondo grado si va in cassazione sotto il profilo della violazione del consenso informato una cosa dice il ricorrente è il danno biologico perché il danno biologico è conseguente alla decisione della salute ok ci siamo altra cosa è il danno non patrimoniale non biologico subito come violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione il corpo è mio lo gestisco io no si ritiene si ritiene non corretta le decisioni dei due dei due dei due giudici di merito tribunale e il corte d'appello perché non avrebbero considerato e si cassa con rinvio per l'accertamento no della della sono rimasto piuttosto scioccato da questa da questa sentenza tra pentesi presidente Petti estensore Frasca Raffaele Frasca che era un giudice del tribunale di Monza che è stato anche perfezionato la scuola Sant'Anna dove io ho insegnato prima di andare poi a Brescia e poi arrivare al sacro cuore quindi una persona che conosco bene però francamente mi sembra capisco che quel consenso che è stato dato era troppo generico si dava il consenso per la rimozione della ciste ovarica e di tutto quello a non ricordo ma le parole sono e tutto quello che potrebbe essere necessario in considerazione della cosa ed è stato un intervento invasivo certamente perché tutta questa serie di cose fatte sono invasivi però erano determinate allora c'è tutta la giurisprudenza dei testimoni di Geova insomma non vi ricordate grossissimo grossissimo problema insomma responsabilità america è una anch'essa è una mina vagante in cui questa immagine mia non so se possa piacere poi vediamo dell'imperialismo della responsabilità civile cioè di fronte a un caso come questo in cui si è dato alla fine il risarcimento del danno la cui quantificazione sarà lasciata al giudice di rinvio ma è questa la vera la vera strada da percorre io ho frotto i dubbi il quarto quarto atto comincio a essere un pochino stanco ma ce la faccio il quarto atto della piesta datale è tabelle tabelle 138 e 139 qui è voglio dire l'ho anche scritta la composizione della terza la composizione della terza sezione della corte di Cassazione è voglio dire loro sono uniti no però voglio dire se tu Alberto avessi un ricorso per Cassazione in cui chiedi risarcimento che non ti è concesso lamenti lesioni di diritti che non ti sono state riconosciute in primo secolo mamma mia scusa mamma l'ho lasciato era no no ma scusatemi veramente era che devo aver messo silenzio di solito metto e cos'è che dicevo ricorrente ricorrente tu che che giudice del relatore vorresti Rossetti o Travaglino Scarano la giustizia italiana non può essere lasciata alla scelta no di un giudice si deve voglio dire ho parlato del risarcimento giusto no del risarcimento giusto ma il risarcimento deve essere certo il risarcimento deve essere certo assolutamente certo uno mi dice ma la certezza esiste nel diritto penale c'è la pena nulla un crimine si ne legge certo 25 della costituzione sappiamo tutto si può fare uno sforzo per estendere non la garanzia costituzionale no no ma un elevato grado di certezza anche per quanto riguarda anche per quanto riguarda il risarcimento io dico di sì le tabelle vanno in questa direzione le tabelle vanno in questa direzione cioè nel senso di sapere ex ante il danneggiante sa ex ante no qual è il livello di responsabilità quando vedi sopra primo atto della mia ps ci sia un danno biologico età invalidità si fanno tutti i conteggi uno sa che se è accertata la sua responsabilità questo è quello il danno l'unica voce di danno non patrimoniale prevista dalle tabelle milanesi è perché l'ho detto prima le sezioni unite hanno detto così però sappiamo tutti e chi non lo sa testelo colga che si vogliono cominciano come a teatro che la voce di danno non patrimoniale fissata nelle tabelle ingloba al suo interno e il danno biologico e il danno morale prima del 2008 il danno morale veniva dato un quarto un terzo la metà a seconda della lesione del danno biologico la corte di cassazione a sezioni unite ha detto che è un automatismo risarcire così spera cosa ha fatto con le tabelle del 2009 del 2013 unica voce di danno che è stata valorizzata con il danno biologico più un quarto un terzo la metà di danno morale è voce di danno non patrimoniale ma contiene la valorizzazione di biologico e di morale dice qualcuno nome manzoniano ino no? che è seduto vicino a me dice ma non è previsto più il danno morale ma come è dentro la valorizzazione del danno non patrimoniale non è più previsto il danno esistenziale il danno esistenziale come categoria autonoma non è più dato di scorrere 11 novembre 2008 una delle notate più felici del professor Ponzanei però le sezioni unite caro Alberto dicono come categoria autonoma non esiste più perché la voce di danno è unitaria però dice 20 righe dopo il risarcimento deve essere integrale e deve risarcire e ricomprendere anche le ricadute che una dottrina chiama esistenziale sulla qualità della vita non è un danno automatico io chiedo no? tre poste di danno biologico morale esistenziale esistenziale no io chiedo una voce di danno non patrimoniale sapendo che dentro c'è il morale e fuori c'è l'esistenziale sì ma il 138 e il 139 dicono che il danno biologico è non solo il danno biologico statico quello che lede soma e psiche ma anche il danno biologico nel senso dinamico quello cioè che lede ferisce le le capacità le ricadute brutto voce di danno negli anni 60 parlo per i più i meno giovani danno alla vita di relazione che era uno strumento per superare il 2059 danno questo è dico rimane fuori qualcosa arriva Travaglino con la sentenza del giugno 2015 arriva Scarano con la sentenza del settembre 2015 che dicono le tabelle è sempre il giudice è sempre il giudice che deve essere lui a decidere le tabelle offrono solo indicazioni e ho raccomandazioni e ho suggerimenti è il giudice 1226 2056 che è il giudice l'hai detto tu no la giurisprudenza è decisiva judge made law in questo contesto sì ma ho capito e non vogliamo il legislatore che poi interviene a gamba tesa perché interviene a gamba tesa successivamente dice Travaglino una sentenza che ho commentato sul foro italiano ma non si può non risarcire il dolore interno e la vita che cambia l'imperialismo usa questo termine del danno biologico non di solo salute vive l'uomo bai sarcito e il dolore interno e la vita che cambia come due voci di danno due momenti o due componenti della valutazione equitativa sì ma Alberto se uno sta male soffre la vita è cambiata io soffro e do cento e poi siccome per la sofferenza è cambiata la mia vita do altri cento non stiamo risarcendo lo stesso interesse con nomina diversa Enzia non sunt moltiplicanda diceva non un certo filosofo bene a me pare francamente che dietro a queste sentenze che voglio dire Mario Leoni gentilmente ricordava con una mia nota c'è un modo di concepire quei momenti importanti della responsabilità civile dai quali ero partito quando risarcire ma soprattutto quanto risarcire noi possiamo essere liberi in Italia di risarcire molto di più voi sapete qual è il paese in Europa che riconosce il maggior livello di risarcimento lo sapete qual è l'Italia 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 qual è il paese dove i premi assicurativi sono più alti l'Italia dice Giulio io mi chiamo Giulio sei un filo assicurativo pensi solo pensi solo all'esigenza della cassa delle imprese di assicurazioni sì come ma le imprese di assicurazioni non sono onlus le imprese di assicurazioni sono imprese no fanno il loro dovere pagare più tardi possibile il meno possibile ma se i risarcimento come nella responsabilità america le compagnie di assicurazioni si sono tuffate nella vasca della responsabilità america 15 anni fa come ci si tuffa nell'acqua sarda o nell'acqua dei caraibi hanno visto fonti di guadagno incredibili hanno detto c'è un nuovo settore della responsabilità civile siamo qui pronti l'assicuriamo eccoci qua e poi scappano da questo mondo allora noi dobbiamo essere fieri e lo dico davvero